Settembre fa anche rima con l'inizio dell'anno scolastico, un'occhiata a quelle che sono le strutture che sono di competenza del Comune di Roccapiemonte, in che stato sono e inizierà regolarmente l'anno scolastico per i piccoli alunni di Roccapiemonte? Sì, non credo ci siano problemi, stiamo provvedendo alla pulizia esterna dei palestri scolastici che sono ben otto a Roccapiemonte, questo purtroppo è un problema proprio di gestione pratica e non solo, perché è chiaro che una popolazione scolastica distribuita in otto plessi, senza considerare liceo scientifico, che sarebbe di competenza provinciale, ma come ben sai tutti poi le problematiche anche più spicci vengono riversate sul Comune, si saranno fatti dei lavori anche al plesso del Via Ferrentino, perché sarà giunto un'altra classe, anzi due classi a tempo pieno, quindi saranno fatti dei lavori per rendere agibili due classiche, due aule che erano competenti della vecchia direzione didattica e quindi sarà rimessa a posto pure la mensa. E saranno fatti altri lavori di ristrutturazione per cercare di iniziare serenamente l'anno scolastico, l'agibilità è già a posto per tutti i plessi scolastici e quindi ci speriamo solamente che inizi serenamente e prosegue serenamente fra un allarme meteo e un altro.